E' stata un'Orlandina Basket rinunciataria e rendevole quella vista ieri sera al Palasichele Archivi contro i campioni in carica della Basketball Champions League Libero Star Tenerife. Una gara già decisa in avvio di secondo parziale, con gli spagnoli a prendere il largo già all'intervallo. Nonostante Tenerife si sia confermata squadra di enorme talento che punta a riconfermarsi in Basketball Champions League, il punteggio finale di 59 a 107 è segno della necessità di invertire la rotta in casa orlandina e a dirlo è proprio il DS Peppe Sindoni in conferenza stampa post gara. Credo che ci siano modi e modi per perdere, oggi io voglio metterci la faccia, voglio essere qua perché da orlandino voglio dire che non ritengo che la rendevolezza che oggi i nostri giocatori hanno messo in campo rappresentino i valori di un club, ma soprattutto di un popolo, di una città, di gente che ha dei valori, li ha portati avanti in Italia, in Europa, li ha difesi per anni, li continuerà a difendere e che questo mi ferisce, la rendevolezza di oggi mi ferisce. Da orlandino, prima che appunto da direttore sportivo, voglio assicurare a tutti i nostri tifosi che farò il massimo per fare in modo che gli orlandini vengano rappresentati degnamente per quelli che sono i propri valori. La gente dovrà passare sul mio cadavere prima di rigiocare un'altra partita da fighe con la nostra maglia. Non so cosa farò, non so quali sono le azioni che io personalmente, che il club porterà avanti, non mi spaventano, qualsiasi azione non ci spaventa, non mi spaventa. Cambiare dieci giocatori, sì cambieranno dieci giocatori. Sicuramente le tre persone che ritengo non essere in discussione sono Gennaro Di Carlo, me e mio padre, perché insomma noi la stiamo vivendo, stiamo vivendo questa avventura ormai triennale con uno spirito e una coesione che raramente mi capita di vedere altrove. Grazie a tutti.